Ciao a tutti, siete venuti sul nostro canale di notizie. Non dimenticate di abbonarci e condividere per supportare il canale. Provvedimento del GF contro Anita Olivieri. Tua madre ti ha mandato un biglietto dall'esterno. Il grande fratello ha preso un duro provvedimento contro Anita Olivieri, colpevole di avere nascosto un biglietto ricevuto dall'esterno della casa da parte della madre. Alfonso Signorini, nascosto in una confezione di medicinali. Hai contravenuto al nostro patto di lealtà.Duro provvedimento contro Anita Olivieri, finita in nomination d'ufficio per avere contravenuto al regolamento del grande fratello. Anita ha ricevuto un biglietto dall'esterno della casa da parte della madre che lo aveva nascosto all'interno di una scatola di medicinali consegnati alla produzione del reality affinché la figlia li ricevesse. Beccata dopo averlo confidato a Wozicien sotto le coperte, Anita è stata messa al telefoto senza passare dalle nomination. Hai contravenuto a un patto di lealtà con il grande fratello ed è per questo che finisci al televoto, ha spiegato Alfonso Signorini. Che cosa aveva scritto la madre di Anita Olivieri nel biglietto. Il biglietto mandato dalla madre di Anita alla figlia non conteneva informazioni dall'esterno della casa, solo un consiglio apparentemente innocuo e una testimonianza di affetto e nostalgia. Caro amore, parla meno e ascolta di più. Mi manca la tua voce e stringerti forte a me. È stata una sorpresa vederti bere e fumare. Ma tu sai, ti amo. Mamma, nonostante l'apparente neutralità del messaggio, la produzione ha deciso di sanzionare quella omissione raccontata ingenuamente a Rosie sotto le coperte. La conversazione tra le due, chiaramente, è stata catturata dai microfoni che le concorrenti indossavano durante la confessione di Anita alla coinquilina. Anita Olivieri, non l'ho detto per non mettere in difficoltà mia madre. Anita, interrogata da Alfonso Signorini, ha spiegato il motivo per il quale ha taciuto al grande fratello la presenza del biglietto ricevuto da parte della madre. Non volevo metterle in difficoltà. Temevo di crearle un problema. Nonostante la comprensibile decisione di coprire la madre, la produzione del reality non ha potuto fare a meno di condannare la scelta di Anita, candidandola d'ufficio al televoto. Grande fratello, nessun eliminato nella puntata del 2 dicembre, Alex, Giuseppe, Grecia, Perla, Paolo e Rosie in nomination. Televoto ricchissimo in vista della prossima puntata del grande fratello. Il pubblico dovrà decidere quale concorrente salvare tra Alex Schweizer, Giuseppe Garibaldi, Grecia con Menares, Perla Batiero, Paolo Masetti e Rosie Cien. Nessun eliminato nella puntata del grande fratello di sabato 2 dicembre. Il televoto cominciato nel corso della puntata di qualche giorno fa era stato aperto affinché il pubblico potesse eleggere i propri preferiti. Risultati essere Beatrice Luzzi e Vittorio Menozzi. La puntata è stata quasi interamente dedicata al triangolo tra Perla Batiero, Mirco Brunetti e Greta Rossetti, con l'ingresso di quest'ultima nella casa. Spazio anche a una lite tra Beatrice e il padre di Giuseppe Garibaldi e al provvedimento disciplinare ricevuto da Anita per avere ricevuto un biglietto dall'esterno della casa. Televoto affollato in vista della prossima puntata del grande fratello, in onda lunedì 4 dicembre. Il pubblico a casa sarà chiamato a scegliere quale concorrente salvare tra Alex Schweitzer, Giuseppe Garibaldi, Grecia con Menares, Perla Batiero, Paolo Masetti e Rosie Cien. Chi sono i concorrenti in nomination? A finire in nomination per effetto dei voti espressi dagli inquilini della casa sono stati Alex Schweitzer, Giuseppe Garibaldi, Grecia con Menares, Perla Batiero, Paolo Masetti e Rosie Cien. Al gruppo si aggiungerà da lunedì Anita Olivieri, finita al televoto per effetto di un provvedimento disciplinare deciso dalla produzione del reality. Ma la concorrente potrà essere votata solo nella puntata in onda lunedì 4 dicembre. A votare Perla sono stati Grecia, Rosie, Massimiliano e Vittorio.Rosi è stata nominata da Mirko. Giuseppe è stato votato da Alex. Grecia è stata nominata da Perla, Beatrice, Paolo, Giuseppe e Letizia. Alex è stato nominato da Anita. Paolo è stato nominato da Fiordaliso. Solo Fiordaliso, Massimiliano, Vittorio e Beatrice. I primi due immuni per effetto del voto dell'opionionista Cesara Buonamici e gli ultimi due risultati vincitori dell'ultimo televoto hanno potuto nominare in confessionale. Le restanti nomination sono state palesi. Cosa è successo al GF? Le news della puntata del 2 dicembre 2023. La puntata del grande fratello del 2 dicembre è stata quasi completamente dedicata al triangolo Perla, Mirko e Greta e all'ingresso di quest'ultima nella casa. Spazio anche a una lite tra Beatrice Luzzi e il padre di Giuseppe Garibaldi e al provvedimento disciplinare ricevuto da Anita Olivieri dopo aver ricevuto un biglietto nascosto dalla madre, all'interno di una confezione di medicinali. Perla Vatiero ha un crollo, le lacrime e lo sfogo dopo l'ingresso di Greta Rossetti al grande fratello. Al grande fratello, Perla Vatiero ha avuto un crollo dopo la diretta. La concorrente è scoppiata a piangere e si è rifiutata di mangiare. L'ingresso di Greta Rossetti sembra averla sconvolta. L'ingresso di Greta Rossetti nella casa del grande fratello ha sconvolto Perla Vatiero. Se durante la puntata di sabato 2 dicembre, la donna era sembrata in grado di affrontare l'imprevisto triangolo, subito dopo la diretta è scoppiata a piangere. Intanto, Greta ha avuto un primo confronto con Mirko Brunetti. Perla Vatiero crolla al grande fratello. Dopo la diretta del grande fratello di sabato 2 dicembre, Perla Vatiero ha avuto un crollo. La concorrente è scoppiata a piangere. L'ingresso di Greta Rossetti nella casa non l'ha lasciata indifferente. Letizia Petris l'ha raggiunta in giardino e ha provato a convincerla a mangiare. Senza riuscirci, non ho fame, le ha risposto tra le lacrime. Poi, si è sfogata, non poteva capitarmi cosa peggiore. Non pensavo mi schiaffassero una cosa del genere in faccia. Letizia ha provato a darle forza. Piangi, sfogati, butta fuori, ti si stanno riaprendo delle grandi cicatrici. Però devi ricordarti che sei una donna forte. Non devi mollare, ma per te stessa. Quanto male hai già superato. L'hai già superata questa cosa, lo puoi fare la seconda volta. Però sappi che non sarai mai sola punto, ma per lei è apparsa inconsolabile. Non ci sto a tutto questo. Non ci sto. Lo sapevo, lo sapevo. Non puoi capire. Come fai a vivere tranquilla? Già è difficile il contesto. Ma come fai? Il confronto tra Mirko Brunetti e Greta Rossetti. Intanto, nella casa c'è stato un primo confronto tra Mirko Brunetti e Greta Rossetti. Dopo la diretta, la concorrente ha assicurato a Mirko di non avere intenzione di influenzare il suo percorso con Perla. Tu stai tranquillo. Io faccio il mio percorso e voi fate il vostro. Il Geffino, tuttavia, ha precisato. Io faccio il mio percorso e lei fa il suo. Qui non è un noi o un voi. Di tante cose avremo modo di parlare sicuramente. È inevitabile. Io me la vivo in modo molto, molto leggero. Non mi voglio appesantire troppo. Per il resto avremo modo. Tante cose mi sono dispiaciute veramente tanto. Greta è stata lapidaria. Perché non sei intelligente per niente. Pensavo fossi più intelligente. Vabbì, basta, non fa niente, va bene così. Grazie per aver guardato l'intero video. Iscriviti e condividi per supportare il nostro canale e creare video migliori. Grazie e ci vediamo di nuovo. Grazie.